ecco siamo all'interno della ex discarica in via Walter Tobagi questo è un luogo dove dimorano abitualmente alcune persone come possiamo vedere troviamo su Pellettili qui c'è una camera uno sgabuzzino adibito a camera un letto almeno per due persone in giro vediamo ancora su Pellettili, lenzuola, ciabatte vestiti condizioni ovviamente di assoluto degrado degrado spaventoso questa era una ex discarica un riparo di fortuna che queste persone al momento assenti sono riusciti a trovare qui un pallone dovremmo tornare in questo posto per vedere al limite se ci sono anche dei bambini che vivono qui dovrebbero essere persone comunque di nazionalità romena e questo luogo sarebbe abitato già da un paio di anni vediamo anche un gattino e siamo qui con Simone Gelli, Lega Nord ecco di questo triste spettacolo cosa ci dici Simone? e questo è quello che offre la nostra città il dramma vero è che dopo 5 mesi l'amministrazione comunale oggi dice di ne saperne nulla veramente è una cosa scandalosa in centro città quasi nel centro città a ridosso della zona industriale con dei residenti che mi dicono di aver già denunciato più volte la cosa agli organi competenti credo che l'amministrazione comunale visto che qualcuno scrive su Facebook che è un'area del comune di Magenta dovrebbe mettersi la mano davvero sul cuore e cominciare a mettere la testa sulla città perché qua è davvero una situazione di incurio al di là di chi ci abita e di chi, visto che c'è un letto matrimoniale probabilmente ci vive alle soglie degli anni 2020 probabilmente qualche problema c'è insomma, quindi credo che l'amministrazione deve alzare le proprie chiappe e venire immediatamente qua a fare qualcosa e questo è l'ingresso su via Walter Tobaci naturalmente con un cancello però sai perché ti dia grazie a tutti